Per i fanesi non solo, il martedì di Pasqua si festeggia di solito nella pineta di Ponte Metauro in ricorrenza della festa della Madonna del Ponte. Originariamente denominata Santa Maria di Fano ha acquisito il nuovo nome solo dopo la realizzazione del ponte sul fiume Metauro. Nei secoli il santuario è stata una meta per tanti pellegrini e nel 1984 Giovanni Paolo II durante la sua visita alla città incoronò il quadro della Madonna del Ponte nominando la protettrice dei marinai. Un bel momento ancora vivo nel ricordo di tanti fanesi. Dopo la chiusura forzata dello scorso anno dove non sono state celebrate le sante messe quest'anno, martedì 6 aprile, la parrocchia ha programmato le tradizionali celebrazioni nel rispetto però delle misure anti-covid. Il programma di martedì, come tutti gli anni, prevede la messa ogni ora a partire dalle 8. Ci saranno vari sacerdoti che sono legati molto al santuario anche perché facevano parte di questa parrocchia che celebreranno e alle 17.30 ci sarà la tradizionale celebrazione con il visco, con il coro eccetera. Purtroppo a causa della pandemia non si terrà la pesca di beneficenza e poi ci sarà la festa impinita.